Roma-Torino termina 3-2, la Roma vince contro il Torino oggi, 26 febbraio 2024. Pensate che la Roma gioca in casa, quindi in uno stadio olimpico, il Torino fuori casa. Buona partita per la Roma, ovviamente Paolo Di Bala, ferma i tre gol, il tris di gol. Il primo, pensate che è un gol su rigore, gli altri due non su rigore ma normali, entrambi nel secondo tempo. Il Torino fa due gol, di cui però, vi ricordo, uno è un autogol, il secondo, il primo arriva grazie a Dugan Zapata, il secondo l'autogol di Uisren. Nel secondo tempo, la Roma comunque raggiante di Univa riesce a vincere contro il Toro. Statistiche positive per la Roma, male per il Torino, più passaggi per la Roma, più precisione per la Roma e un possesso di palla per la Roma Maggiù rispetto al Torino. Beh, complimenti alla Roma, complimenti a Dvr, Daniele Rossi, iscrivetevi, commentate, ciao a tutti.